Correva l'anno 2004, era il 15 gennaio quando Opportunity approdò sul suolo marziano. Aveva un rover gemello, Spirit, che lo aveva preceduto di tre settimane atterrando sul cratere Gusev. A Opportunity toccò invece in sorte l'esplorazione di una regione sul lato opposto di Marte, Meridiani Planum. Programmati per resistere tre mesi, i due robot si misero subito all'opera ed ecco arrivare i primi risultati. Primo fra tutti, nel passato di Marte c'erano acqua e calore a sufficienza per sostenere forme di vita. Opportunity macinava chilometri, oltre 45, infrangendo già nel 2014 il record di percorrenza su un mondo extraterrestre. Sfidando ogni avversità dalle sabbie mobili alle tempeste di polvere, ci ha entusiasmato e fatto soffrire per 15 lunghi anni. Dato definitivamente per disperso il 13 febbraio del 2019, Opportunity ci ha insegnato che i più grandi esploratori dell'umanità non sempre sono esseri umani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.